Anche in questa gara saranno 25 giri da percorre, la prima campana a meno 23, la prima segnazione Le ragazze al gazebo a sello atleti Siamo alla campana di meno 23, il prossimo giro, la prima segnazione di punteggio 14, 2 punti, 19, 1 punto 21, 2 punti 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1 Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.